Mi chiamo Antonio Rivetti, ho incominciato il mio percorso a gennaio 2020. Ho messo otto impianti, otto sopra e otto sotto. Dopo otto mesi sono ritornato per mettere la dentiera fissa. Il mio percorso è stato formidabile perché ho avuto a che fare con gente specialistica e competente in tutto, anche nell'accoglienza e tutto. Dopo noi ci siamo venuti per il controllo. Il controllo finale è tutto bene, igienicamente tutto a posto, senza infezione. Il prossimo controllo lo farò tra un anno per sicurezza. Quindi chapeau a tutta l'equipe, a tutta l'accoglienza e gente con vero professionalismo. Vi ringrazio molto a tutti per la vostra gentilezza. Avrò dei bei ricordi nel mio cuore da parte vostra. Grazie a tutti.